Ehi, surfisti! È ora di andare dietro le quinte dell'ultimo film Disney! Eccovi alcune curiosità su Best of Both World Concert, il nuovo film con Anna Montana e Miley Cyrus in Disney Digital 3D. Quello che emoziona di più i ragazzi è quando parli direttamente con loro. Mi piace fare delle domande e creare una sorta di interazione. Siete davvero i più grandi fan di Anna Montana! È una cosa unica trovarsi di fronte a 15.000 persone. Se sbagli ti senti a terra. Tutti possono vederti sul grande schermo, ma è divertente andare lì fuori e, sai, iniziare a scuotere i capelli, scherzare col chitarrista o dare un colpo alla batteria. Quando vedi che la folla si sta divertendo, l'agitazione va via. Grazie ragazzi! Siete grandiosi! Quando dico che vedrete il backstage, non scherzo. Il pubblico assisterà all'intera trasformazione di Anna e Miley. Non registrare. È grandioso stare con persone che capiscono te e la tua passione per la musica. Fatemi sentire un grido per i Jonas Brothers! È elettrizzante suonare con Miley. Ci siamo divertiti molto insieme. Mick suonava la batteria e giù il tamburello e durante un brano è addirittura salito sul pianoforte. Ci divertiamo sul palco e fuori dal palco. È un grande spettacolo. Ci sono molti effetti speciali, come i fuochi d'artificio, e i ballerini sono davvero fantastici. Credo che ai ragazzi piacerà tantissimo. Anna Montana e Miley Cyrus vi aspettano in Best of Both World Concert in Disney Digital 3D. Adesso al cinema! Scopri tutti i segreti degli ultimi film Disney. Solo a Disney Channel.